un saluto a tutti ed eccoci qua in questo nuovo video da tenore informatico registro qui nel mio piccolo studio e oggi ti voglio proporre una soluzione un'alternativa anche se non lo può sostituire che riguarda il telecomando della smart tv questo è il classico telecomando che utilizziamo tutti i giorni per cambiare i canali accedere a delle applicazioni piattaforma come netflix disney plus prime video comodissimo non può mancare assolutamente a distanza comodi nella poltrona possiamo così accedere a tutte le funzioni della nostra tv per mezzo di questo fantastico e grande invenzione che si chiama il telecomando però c'è sempre un però quando avevo acquistato la mia smart tv lg mi era accorto e ormai non potevo più tornare indietro che mancava una funzione indispensabile per me ma soprattutto anche per te e sto parlando della funzione del comando vocale proprio in un punto preciso del telecomando ci deve essere il simbolo del microfono che nel mio purtroppo non c'è meno male che esistono altri sistemi come il video che avevo fatto che ci permette tramite applicazione di usare il telefono al posto del telecomando e da lì poi sono riuscito ad utilizzare i comandi vocali attraverso il mio smartphone un'altra soluzione c'è comodissima che spesso è anche meglio del telefono perché quando si compra una smart tv c'è sempre una cosa che in tanti non fanno caso se andate sulla piattaforma di netflix prime video disney plus e dovete cercare qualcosa la cercate attraverso il vostro telecomando e dal telecomando vi chiedo come fate o come fai a digitare ogni lettera simbolo per cercare quella determinata cosa magari stai cercando il tuo film o serie preferita e perdi la pazienza semplicemente perché stai utilizzando il telecomando scomodissimo quando bisogna scrivere qualcosa o magari devi inserire l'email o la password per l'inserimento del tuo account ecco perché a volte anche se indispensabile la funzione dei comandi vocali può essere utile da una parte perché per la mia esperienza sulla smart tv a volte non trova tutti i contenuti quando io cerco vocalmente una cosa questa cosa non viene trovata sulla piattaforma che sto utilizzando cerco un film su netflix e me lo cerca su youtube oppure su un'altra piattaforma è un casino totale per ovviare a questo problema si può utilizzare un'altra valida alternativa al telecomando e ora ti mostrerò di che cosa si tratta la soluzione migliore ragazzi è utilizzo di mouse e tastiera con questi due dispositivi di input possiamo avere un'esperienza totale della nostra tv in tutte le tv di qualche anno fa e di adesso c'è questa possibilità ovviamente dipende anche dalla compatibilità e se disponete dell'ingresso usb grazie a questo ingresso potete collegare il ricevitore usb direttamente alla tv in modo da utilizzare subito il telecomando e il mouse possiamo fare anche una prova vi sto facendo vedere in questo momento quanto è semplice dovete trovare dietro al pannello l'ingresso usb di solito questo ingresso si trova anche al lato della televisione una volta che avete connesso la tastiera e il mouse alla tv si possono così cercare tutti i vostri contenuti preferiti direttamente dalla tastiera digitando tutte le lettere per trovare la vostra serie tv preferita oppure film molto comodo anche per ricerche internet bene riscritti siamo giunti alla fine di questo video spero che il video vi sia piaciuto e vi ricordo l'iscrizione al canale di tenore informatico ci si rivede al prossimo video ciao a tutti